è vero che gli uomini sopportano le donne no non è vero perché solo le donne che sopportano gli uomini sono degli angeli caduti dal cielo ma quale angeli si dal cielo poi adesso non ci andassero sul cielo perché già ci sta pure qua dopo se la vino del culo uno ti ha chiesto cosa ne pensi degli scambi di coppia a tanta gente gli piace vabbè che ne pensi quando ero una cazzetta io sentivo sempre che facevano sempre mucchiato ma tu non tu faresti mai scambi di coppia quando ero giorno se mi capitava fatto male a non farlo tanto è tutta tutta la lasciata è persa ogni cosa è persa cosa farai nonnina dopo sta corona speriamo dei ripiame bene se passa sta corona vi voglio cercate a divertirmi voglio andare spesso dal parrucchiere che adesso guardate qua che roba ho pure paura a guardarmi allo specchio per il corpo me ne vado spesso dal parrucchiere poi io so che ti dico anche a setà se la corona mi fa campare o se mi capita faccio pure una scappatella e tanto se la corona non ti imbazza e dice da un po' ti ha dato la contentenza quello che capita capita a un certo momento dice finalmente ancora campo e se la piander il culo va a chiamare è più importante il sesso o l'amore nessuno dei due nessuno dei due il sesso delle volte poi ci sta penso che tanta gente manco sa che è il sesso è una cosa come una cosa meccanica che lo fanno e basta non sanno manco quello che cazzo fanno capito ecco dice che hai fatto per te lo fanno i ragazzette piccole che ne sanno certo potassi che una ragazzetta piccola del 14 15 anni trova un fio della mignotto fa ma quella non sa manco che cazzo è che gli dice che hai fatto boh che cazzo ne so ma beh sono così ma ha fatto così ma non lo sanno lo sanno perché per il sesso bisogna saperlo coltivare certo bisogna sta insieme bisogna che l'uomo coltiva la donna eccetera eccetera che si accarezzano che fanno le persone per bene tutte e due allora sì ma no che il sesso se lo fai così tanto per farlo è come quelli che vanno con ste figlie della mignotta per strada quando li pagano sti rincoglioniti secondo te che sesso è quello sesso quello è la schifezza più di schifezza di tutto sono cose naturali fanno uno contro cinque andando con sta gente è proprio un peccato mortale proprio una schifezza peggio da corona peggio peggio da corona questi che vanno con ste poi voracce pure queste che stanno a mezza strada ti fanno pure pena è certo sono sfruttate